Spesso passa l'idea che noi siamo un club che spende di più degli altri, in realtà noi spendiamo nella media degli altri. Primo perché un milione in più o meno di salari non fa la differenza, i 30 milioni in più creano un posizionamento diverso sportivo, ma un milione in più o un milione in meno non cambia in termini di competitività sportiva. Secondo perché non è vero neanche, come leggo spesso, che siamo il decimo monti in gaggio d'Italia, perché io mi faccio i bilanci, quelli sul 16 a 7, c'è KPMG che fa un bel servizio, che se qualche media volesse investire vende, e l'anno scorso eravamo dodicesimi, ma non cambia, questo non voglio giustificare il fatto che se arrivi, come ho detto prima, fra arrivare ottavi, noni e tredicesimi non sono i 2-3 milioni in più o meno che si spende come in gaggi che fa la differenza.